Grazie a tutti. Per le competenze specifiche e la ultra trentennale esperienza nel settore dell'industria alimentare fornendo proposte e progettuali mirate a realizzare nuovi insediamenti produttivi a modernamenti o ristrutturazioni e seguendo le aziende nel raggiungimento dei propri obiettivi. Complimenti, buonasera, come se l'avessi spesso a tutti. Prego. Grazie. Ingegner Pietro Molinari, fondatore della SMR di Saronno. La vostra è un'azienda che si occupa di progettazioni industriali. È già un concetto estremamente bello in un paese in cui molto spesso viene definito non più capace di progettare, quindi ci piacerebbe capire qual è lo spirito di questa azienda che opera già da 35 anni. Quindi una bella storia. E qual è la sua storia, ingegnere? Beh, prima di tutto grazie che mi sta porgendo una domanda così appetitosa. Perché la nostra è una storia fantastica, di grandi passioni per i nostri progetti, di grandi lotte per portare avanti le nostre idee. E dobbiamo dire di ricerca. Forti della convinzione che noi progettisti e chi vive nel mondo dell'alimentazione ha un ruolo sia industriale ma soprattutto sociale. Quindi essere inseriti nel mondo dell'alimentazione, nel nostro caso in qualità di progettisti, è senz'altro un privilegio, del quale ci sentiamo onorati e responsabili. Quindi, mentre chi opera nella produzione degli alimenti è una missione, come un infermiere, come un dottore, pensare di produrre quello che i nostri figli, i nostri nipoti, noi consumiamo, deve essere per noi un oggetto di orgoglio e deve essere per noi un oggetto di grande responsabilità. Quindi se ci dovesse proprio raccontare esattamente qual è il core business di SMR? Noi lavoriamo e stiamo lavorando ancora per il settore della trasformazione della carne e nell'utilizzo delle proteine vegetali, quello che oggi viene chiamato il mondo vegano. Quindi partiamo da una materia prima, carnea, e in tutte le maniere la tagliamo, la cuociamo, la essicchiamo, facciamo i salami, tutto quello che facciamo, progettiamo per. Ora, quello che noi crediamo di aver dato a questo settore così affascinante, perché è l'alimentazione, è aver inserito un concetto nuovo. Il concetto che mette dei principi che governano la nostra progettazione, che sono, che normalmente, almeno per la mia esperienza, per i contatti che ho avuto in Italia e all'estero, questi concetti non vengono messi in pratica se non stimolati da qualcuno. Ecco, noi siamo quelli che stimoliamo, siamo quelli che abbiamo inserito il concetto di compartimentazione sanitaria, siamo quelli che all'interno di una fabbrica abbiamo definito tante piccole fabbriche, ciascuno con il suo livello sanitario, con i suoi rischi di contaminazione, e quando progettiamo non dobbiamo aspettare di arrivare alla fine per vedere se la compartimentazione è rispettata, perché già parte come idea principale. Questo noi riteniamo che sia, come dire, lo stimolo che ci ha portato fino a qua. E lo possiamo dire esaminando la storia. Noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando per l'estremo oriente, oltre la Cina, abbiamo fabbriche che stanno lavorando sui nostri progetti. Siamo andati nell'emisfero australe, tutta il Sud America, Cile, Argentina, Brasile, e tutti hanno ascoltato, hanno fatto tesoro delle nostre impostazioni, quasi a dire che può cambiare la tecnologia di produzione, perché ogni popolo ha le sue richieste, ogni mercato ha le sue abitudini, che noi non vogliamo certo condizionare o giudicare, ovvio, ma ci sono i principi ispiratori che valgono per tutti. Ecco, bisogna individuarli. Sono cose molto semplici che è sufficiente esercitarci su questo tema per far sì che i progetti, rispetto a prima, acquistino quelle caratteristiche che fanno diventare tanti singoli strumenti una bella orchestra. Per conoscere bene anche i mercati internazionali occorre naturalmente andare direttamente a conoscerli ed essere in grado anche di proporre soluzioni innovative che riescano a cavalcare le novità, anche a livello societario, appunto, che arrivano anche nell'ambito sociale. Nella questione dell'innovazione, appunto, fra un po' sentiremo le parole di suo figlio, di Niccolò Molinari. Voi questa sera per le fonti awards ricevete il premio per l'innovazione, appunto, nelle progettazioni industriali. Lei questo compito di innovare lo sta, come dire, trasferendo, mi pare di capire, quasi interamente a suo figlio. Sì, sì. Devo dire che io, come sempre, quando si è giovani, tante volte non si sa ancora che cosa succederà, ma io avevo sempre chiaro il desiderio di progettare, di realizzare all'interno delle fabbriche alimentari questi concetti. Oggi so che ho lasciato un percorso non finito, anzi, va approfondito, va sviscerato. È molto promettente. Sì, anzi, io so di aver lasciato tanto da esplorare. Siamo solo all'inizio, ma la passione e la tenacia che in questi decenni ci ha accompagnato ha fatto sì che io spero di aver trasferito ai miei collaboratori, e in particolare a chi porterà avanti la società che Niccolò, mio figlio, spero di aver trasmesso tutta questa voglia di… e sono sicuro che è così, perché se no mi dispiacerebbe tanto, invece non è. Ingegner Niccolò Molinari, la seconda generazione di SMR, e lei si sta dedicando, come dicevamo prima con suo papà, a tutto lo sviluppo e all'innovazione appunto dell'azienda. Che cosa vuol dire operare in questo comparto nell'era del 4.0? Allora, innanzitutto vuol dire guardare sempre al futuro, anzi, al presente, che è un presente molto… in cui l'innovazione cambia molto rapidamente, anche banalmente per i software che si usano per la rappresentazione grafica. E questo noi siamo molto attenti, abbiamo dei corsi di aggiornamenti e tentiamo a essere i primi a innovare, a utilizzare dei sistemi che forse nel nostro settore ancora nessuno usa. Guardando comunque all'antico, quindi vedendo tutto quello che di buono sia stato creato, se non 35 anni l'azienda, portandolo in un'altra maniera, portandolo con dei nuovi software, una nuova grafica, qualcosa che accattiva anche l'occhio del cliente. All'interno, e soprattutto nel corso degli ultimi anni, noi abbiamo l'ambiziosa idea di trasformare il progetto in un processo, dove si può, perché sono due cose completamente diverse. E facendo questo noi abbiamo creato un'interprogettuale all'interno che risponde sì al life cycle di un qualsiasi progetto, ma con delle nostre particolari correzioni o adattature. Noi partiamo con il progetto strategico, che come diceva prima mio padre, è il punto fondamentale, perché è l'inizio del cammino del viaggio che noi facciamo insieme al nostro cliente. E scopo di questo, di questa fase, è quello di trovare insieme al cliente il concept e il planning di 20 anni anche, perché un'azienda non dura 5 anni. ma dura i prossimi 20 anni. E in quella fase lì, allora, in cui anche il cliente ha forti paure, perché comunque si parla di investimenti importanti. E c'è, si devono impegnare per molto tempo, naturalmente. Ma questo è anche un discorso molto interessante, perché voi dovete riuscire a sostenere l'innovazione tecnologica per aziende che devono progettare innovazione tecnologica che cambia la velocità della luce e lanciare le aziende per un lungo periodo. Le porto un esempio proprio dell'anno scorso. Noi siamo stati incaricati da un cliente russo molto importante per realizzare quella che ad oggi è la fabbrica più innovativa e automatica del mondo. Sicuramente in Europa forse è la seconda al mondo. E' stato per noi un forte stimolo. Esatto, ma soprattutto anche banco di prova, perché c'erano delle innovazioni che ad oggi nessuna altra fabbrica ha. Non avevamo nessuna esperienza su delle macchine, su delle attrezzature che siamo andati a inserire e il risultato è stato ottimo. Anche grazie all'innovazione, banalmente progettare in 3D per verificare le diverse incroci pericolosi tra strutture e impianti hanno permesso di realizzare questo impianto, non in Italia, con la nostra progettazione, con la nostra direzione dei lavori, diciamo con buoni risultati. Certo, mettete le aziende nelle condizioni di investire per un lungo termine investendo voi stessi sulle soluzioni che proponete. Esatto, sempre con il richiamo alla nostra esperienza, perché forse uno dei punti di forza della nostra società, oltre naturalmente al team che abbiamo, che è formato da professionisti che lavorano con noi da 20 anni e che mettono nel campo specifico del nostro settore la loro competenza, la loro professionalità, anche da ragazzi millennials, giovani, che hanno della conoscenza di queste nuove tecnologie di rappresentazione grafica molto sviluppate, hanno tanta voglia di imparare. Quindi questo confronto di generazione comporta all'interno dello studio un continuo confronto che secondo me è importante perché da un confronto si può crescere da entrambi le parti. Detto l'esperienza, con l'innovazione noi abbiamo aumentato l'efficacia e l'efficienza nella progettazione, nel senso che siamo in grado di garantire in tempi più brevi rispetto a quello che facevamo primi, e anche con un margine di errore inferiore già dall'inizio dei progetti che funzionano e che possono comunque alla fine, a livello del bilancio globale di progetto, dare un forte impatto positivo al cliente, anche dal punto di vista economico. Questa azienda ha 35 anni, suo papà la sta lasciando a Leile come la vorrebbe fra 35 anni, se è possibile. Tutto speriamo di essere ancora qui in questo bellissimo evento, speriamo di essere ancora cresciuti, cresciuti, cresciuti. Noi vogliamo crescere e tenere un occhio vigile all'innovazione, capire, captare quale innovazione può essere adatta per noi e per i nostri clienti. Vogliamo cercare di ampliarci nel business, come abbiamo detto, noi siamo forti nel settore della trasformazione delle carni, negli ultimi due anni, sempre nel settore alimentare, abbiamo toccato e assaggiato altri settori, come il caseario e la trasformazione delle proteine vegetali per la produzione di prodotti vegani, per la quale siamo anche molto contenti, lieti di informarvi che tra pochi mesi si concluderà un grosso progetto in Italia che ci ha visto protagonisti nel corso degli ultimi due anni e proprio per una fabbrica per la produzione di prodotti vegani. Quindi io spero di vederci forti insieme nel settore dove, ma in altri settori. Senti leader, ma naturalmente guardando anche al di fuori del proprio regime. Anche perché, ahimè, il mondo sta cambiando. Non c'è più anche, i popoli non hanno la così forza di poter mangiare tutti la carne bovina o sumina. Sicuramente tra i prossimi 30-50 anni ci saranno altre fonti energetiche a livello alimentare. Noi dobbiamo stare attenti e capire quali potrebbero essere gli sviluppi qui in Europa e in Sud America. Potremmo e vorremmo rafforzarci nelle regioni in cui siamo già presenti, aprendo magari delle sedi operative, per fornire al cliente che già abbiamo acquisito sempre un servizio più immediato e più efficace. Più di prossimità. Ringrazio mia moglie perché mi sopporta e supporta per il lavoro e nel lavoro che faccio. Ed è importante. Vorrei ringraziare il nostro team, e quindi Giovanna, Gaetano, Barbara, Andrea, che rappresentano la parte senior, Luisa e Roberta che invece rappresentano la parte junior, i nostri due interpreti russi, perché noi lavoriamo molto spesso in Russia, Nicolai ed Elena, e un pensiero a un ragazzo che purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, che è un nostro collaboratore. Grazie ingegnere. E poi mio papà che mi ha trasmesso questa passione. Grazie.